Buon inizio di settimana a tutti voi, bentrovati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale Alguero Covid Free, questa è la notizia forse più importante di quest'oggi perché finalmente si registrano, non si registrano, meglio, nuovi contagi, non ci sono attualmente positivi e non ci sono più persone in quarantena Dunque questa è la notizia più importante di inizio settimana sui dati relativi all'emergenza Covid, comunque torneremo dopo perché nel prossimo servizio invece sentiamo di un'altra notizia importante che è quella di Alguero che è ritenuta un modello in Sardegna per quanto riguarda il bonus regionale, quello di 800 euro La regione infatti ha messo una nota interpretativa condividendo e suggerendo le buone pratiche dei servizi sociali di Alguero giudicandole condivisibili e fondate Tra i primi nell'isola a derogare le somme, il bonus regionale di 800 euro grazie alla modifica del procedimento di presentazione delle istanze Mettendo a disposizione dei cittadini la possibilità di farlo online, il comune di Alguero ha velocizzato le pratiche per rendere più efficace ed incisiva la misura Erogando già dal primo maggio in un'unica soluzione l'indennità spettante di 1600 euro, 800 euro per ciascun mese di marzo e aprile Decurtata dalle altre forme di sostegno a reddito pubbliche e del contributo IMSS di 600 euro relativo al mese di marzo L'entrata in vigore del cosiddetto decreto rilancio ha previsto l'erogazione del contributo IMSS di 600 euro anche per il mese di aprile agli stessi beneficiari del mese di marzo A questo proposito, vista la prevedibile ipotesi di disparità di trattamento tra chi aveva già ottenuto il contributo con una sola decurtazione e chi invece avrebbe dovuto riceverlo con due decurtazioni L'amministrazione ha scelto di continuare a derogare con la sola decurtazione di marzo per la restante parte dei beneficiari La scelta di questa procedura è stata comunicata al presidente dell'Aggiunta regionale Cristian Solinas e all'assessore alla sanità e servizi sociali Mario Nieddu Dal sindaco Mario Conoci e dallo stesso assessore ai servizi sociali Maria Grazia Salaris Nella nota inviata in regione il comune di Alghero ha evidenziato i dubbi circa la decurtazione del mese di aprile La risposta della regione con una nota della direzione generale dell'assessorato all'assistenza sociale ha ritenuto ragionevole quanto spiegato A riguardo l'assessorato regionale è in agenda l'adozione di un idoneo atto interpretativo che possa essere di ausilio alle amministrazioni comunali Considerato che le determinazioni assunte dal comune di Alghero siano condivisibili e fondate Da parte del sindaco Mario Conoci e dell'assessore Maria Grazia Salaris vanno i complimenti alla struttura comunale Che ha lavorato con impegno e determinazione in una fase come quella dell'emergenza che ha presentato condizioni difficili L'indubbio risultato positivo nell'ambito dell'emergenza non solo nel settore dei servizi sociali Ma in tutto l'apparato comunale è frutto di un ritrovato clima di armonia tra i dipendenti, dirigenti e funzionari Che in questi mesi è stato instaurato Intanto la procedura di erogazione di contributi da 800 euro continua Sono in totale 3.469 le domande pervenute Delle quali 1.350 liquidate Con una emissione in circuito di 1.483.000 euro Al momento, spiega l'assessore Maria Grazia Salaris Stiamo definendo l'importo del fabbisogno per comunicare in Regione La necessità di ulteriori risorse Dato che la prima tranche del finanziamento regionale è in via di completo utilizzo E anche la provincia di Sassari in questi mesi in prima linea per far fronte all'emergenza Ma anche ovviamente in questa fase di ripartenza Con l'amministratore straordinario Pietrino Foles abbiamo parlato proprio degli interventi che sono stati fatti Degli interventi in corso e quelli futuri Non è stato un periodo facile soprattutto per gli enti locali Questa è la provincia, provincia però che si è impegnata su più fronti Diversi investimenti, diversi cantieri Sì, non è stato facile per nessuno Abbiamo supportato i comuni, soprattutto i più piccoli Perché in carenza di risorse avevano necessità di sanificare i locali, le strade E quindi gli siamo stati vicini Chiaramente c'è un problema che andrà affrontato nelle prossime ore Che riguarda la sanificazione e la messa in sicurezza delle scuole Anche lì abbiamo responsabilità dirette soprattutto per quanto riguarda gli istituti superiori Ma con la Regione e col Governo abbiamo un'interlocuzione molto stretta Che dovrebbe consentirci di avere le risorse sufficienti per aprire in sicurezza Abbiamo pianificato le cose Da questa settimana iniziamo gli interventi Fino ad oggi ci siamo preoccupati molto di sostenere anche le imprese Le imprese che hanno consegnato i lavori per quanto riguardava sia le infrastrutture scolastiche E anche per quanto riguarda la viabilità Ci siamo preoccupati di saldare fino all'ultimo centesimo Tutti i lavori effettuati e tutte le parcelle dei professionisti che avevano prestato l'opera Quindi abbiamo messo in circolo tutte le risorse possibili In modo che ci fosse un ristoro da parte di coloro i quali hanno fatto i lavori E soprattutto che questi poi a loro volta potessero pagare i dipendenti E potessero mettere in circolo le risorse Per quanto riguarda Alghero diversi interventi in cantiere Sì diversi interventi che riguardano la viabilità E molti interventi anche per gli istituti Per quanto riguarda il manno Ora parte l'appalto per la riqualificazione del sistema di sicurezza Verranno sostituite le finestre, le porte Per quanto riguarda l'istituto d'arte Abbiamo destinato circa 300 mila euro per la nuova palestra E lo spazio esterno che a questo punto è faticente e per il quale bisogna intervenire E' in programma l'illuminazione del viale che porta all'aeroporto Stanno progettando la rotonda di Santa Maria della Palma Quindi queste sono le prime cose che nei prossimi giorni dovremo vedere concretizzate Per i cittadini in difficoltà economica a causa dell'emergenza Covid Il Comune di Alghero ha prorogato al 30 settembre Senza applicazione di sanzioni e interessi Il versamento dell'acconto IMU Così come previsto dalle misure di quell'articolo 177 del decreto rilancio Oltre alle imprese che hanno subito gli effetti della chiusura Sono esonerati dal pagamento anche i contribuenti Che hanno registrato difficoltà economiche nel periodo dell'emergenza epidemiologica Nessuna esclusione quindi per i cittadini che hanno avuto difficoltà La precisazione è arrivata dall'assessore al bilancio Giovanna Caria Dopo che i consiglieri di centro-sinistra avevano lamentato il fatto Che la proroga fosse solo per le imprese che hanno dovuto sospendere l'attività per l'emergenza Covid L'unica speranza è che si tratti solo della purtroppo ennesima delibera scritta male E in tal caso spichiamo che l'amministrazione chiarisca e modifichi la delibera al più presto Avevano scritto in una nota i gruppi di Peralghero, Partito Democratico, Futuro Comune e Sinistra in Comune Con l'assessore che replicando ha invitato invece i consiglieri a rileggere la delibera Che nella parte relativa all'IMU prevede, si legge, la non applicazione di sanzioni e interessi Nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 per la sola quota di competenza comunale Entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche Quale conseguenza delle restrizioni imposte dal Governo in funzione del contenimento del dilagare dell'epidemia da Covid-19 Difficoltà ad attestarsi entro il 31 ottobre 2020, appena di decadenza dal beneficio sul modello predisposto dal Comune L'assessore ha fatto sapere che in via di predisposizione da parte degli uffici La relativa modulistica da presentare comunque quale è attestato entro il 31 ottobre 2020 Si tratta in sostanza di un atto di riconoscenza per le situazioni di molte famiglie algheresi in difficoltà economica Per il pagamento dell'IMU a cui il Comune di Alghero ha voluto aggiungere la propria parte rispetto alle previsioni del decreto rilancio Non applicando interessi e sanzioni con la possibilità per tutti i contribuenti di autocertificare la propria difficoltà economica I cittadini in difficoltà che non possono pagare l'IMU a causa dell'emergenza Covid, specifica quindi Giovanna Caria Non pagheranno l'acconto al 16 giugno poiché sufficientemente motivati e la potranno fare entro il 30 settembre senza sanzioni Con il nostro intervento abbiamo riportato l'incertezza dei contribuenti di tanti professionisti della materia Che ci hanno comunicato il loro parere sull'interpretazione di quanto scritto in delibera dall'amministrazione Spiegano dal canto loro i consiglieri di centro-sinistra Por non dubitando affatto della volontà dell'amministrazione ribadita dall'assessora in un'ottica di collaborazione Segnaliamo però che la delibera letta nella sua interezza lascia molti dubbi e lascia intendere che ci si riferisca solo alle imprese Se come ha scritto l'assessora Caria nel comunicato stampa così non è Meglio modificare la delibera prima di aprire a futuri contenziosi tra gli algheresi e la società di riscossione dei tributi comunali Step e Secal per fugare ogni dubbio ed evitare futuri contenziosi Dunque consigliamo di approvare con urgenza lo schema di delibera consigliare suggerita dall'IFEL, la fondazione del Lanci Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, tra poco con la seconda parte In apertura di telegiornale abbiamo detto dei dati di Alghero Zero positivi e zero persone in quarantena Sono sempre buoni anche i dati relativi alla Sardegna sui contagi Sardegna che si avvicina ad essere davvero covid free Anche ieri non si sono registrate nuove positività In totale nell'isola sono stati eseguiti 63.172 test I pazienti ricoverati in ospedale sono 11 di cui uno solo in terapia intensiva Mentre 48 le persone in isolamento domiciliare Il dato progressivo dei casi comprende come sempre i pazienti guariti Arrivati a 1130 se ne sono aggiunti due ieri Più altri 42 guariti clinicamente Nel bollettino di ieri inoltre non si sono registrate nuove vittime Decessi dunque che restano 131 E dalla scorsa settimana è possibile presentare i progetti per i centri estivi Diurni e servizi educativi della città di Alghero I progetti comprensivi delle attività che si intende svolgere Dovranno essere elaborati dai soggetti gestori Ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità Condivisa con le famiglie Nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti Anche in considerazione del particolare momento di emergenza In emergenza sanitaria in corso Diverse le cose che vengono richieste dal soggetto gestore Dei centri estivi che possono essere visionate nell'avviso pubblico completo Reperibile sul sito istituzionale del comune di Alghero I progetti di centro estivo devono essere inviati all'indirizzo PEC Protocollo chiocciolapec.comune.alghero.ss.it Dopo l'apertura della grotta di Nettuno Questa settimana si completerà il riavvio dell'offerta culturale della città Con i siti di Angelo Ruio e Palmavera I musei e la torre di Porta Terra Ieri intanto un folto gruppo del Consorzio Turistico Rivera del Corallo Ha organizzato la prima visita proprio alla grotta di Nettuno Nell'ambito dell'iniziativa che vuole aiutare Alghero nella sua promozione turistica Un'iniziativa che unisce la possibilità di godere della vista De uno dei luoghi più belli del nostro territorio A quella di aiutare il rilancio e la promozione di Alghero E delle sue bellezze dopo l'emergenza Covid-19 È stato il Consorzio Turistico Riviera del Corallo Con un gruppo di circa 60 persone Alle quali ne sono seguite altre nella visita successiva Ad inaugurare questa iniziativa Pensata e proposta sul tavolo permanente del turismo Dallo stesso consorzio E concretizzata in accordo con l'assessorato al turismo e la fondazione Alghero Al momento l'accesso è possibile solo dalla scalinata del cabirol In attesa del ripristino delle linee marittime Una gradinata impegnativa ma molto suggestiva Da intraprendere concedendosi qualche pausa Per foto e selfie La grotta che molti non visitano più da qualche anno Si è confermata affascinante Un vero gioiello Ha raccontato la Presidente del Consorzio Turistico Rivera del Corallo E Lisa Fonnesu Seguiranno altre visite con gruppetti delle varie aziende E soprattutto, ha spiegato ancora, è utile ricordare che cogliere questa occasione particolare Significa in primis godere di uno spettacolo meraviglioso Come quello che solo la grotta di Nettuno sa offrire E inoltre, non meno importante, aiutare la promozione della città Visto che l'intero costo del biglietto Fissato per la promozione a 10 euro Sarà utilizzato per la promozione, appunto, il rilancio di Alghero Per aderire all'iniziativa, sino al 21 giugno Dalle 10 alle 18 Basterà comunicare alla biglietteria All'ingresso della grotta Che si vuole aderire alla Convenzione per la promozione di Alghero Pagando così la tariffa ridotta di 10 euro Intanto, dopo la grotta di Nettuno, per completare l'offerta culturale cittadina Questa settimana riapriranno al pubblico il Nuraghe Palmavera La Necropoli di Angeluruju Il Museo del Corallo Ma anche quello archeologico E la Torre di Portaterra Siamo ottimisti e sicuri che il periodo più difficile fortunatamente è alle spalle Ha sottolineato il presidente della Fondazione Alghero, Andrea De Logu Si riparte con una forte voglia di far conoscere a tutti i visitatori Le bellezze che può offrire la nostra città Con il suo enorme patrimonio storico, culturale e naturalistico Il Nuraghe Palmavera e la Necropoli di Angeluruju Con le guide della cooperativa Silt Accoglieranno i propri visitatori già da oggi Mentre il Museo archeologico e quello del Corallo Riapriranno i battenti sabato 13 di giugno Stiamo mettendo in campo insieme alla Fondazione Alghero Al Parco di Portoconte Tutta una serie di iniziative per promuovere la città e il suo territorio E tornare ad essere competitivi e capaci Di attrarre nuovi e più interessanti flussi turistici Ha dichiarato invece l'assessore al turismo Marco Di Gangi Insomma l'opportunità di riscoprire il nostro territorio Per oggi è tutto Noi ci vediamo ovviamente domani Grazie per essere stati con noi Arrivederci Grazie